Scusami, è un 6 che riguarda il 7 italiano, quindi ha strappato un buon voto Pogba dall'equip, ma ha strappato mentre c'è un inseguimento qui della polizia. C'è uno scippo, credo. Sì, c'è uno scippo anche qui, si viene, gira. Pogba dall'equip, ma ha strappato mentre c'è un inseguimento qui della polizia.